Alessandro Poggi di Ballarò. I giudici sono fannulloni e sono schierati. La stragrande maggioranza dei giudici è fatta da personale di grandissima qualità e di grandissima serietà. Il problema vero, a mio modo di vedere, del sistema magistratura è l'organizzazione del lavoro. Hanno un'organizzazione del lavoro ancora preindustriale, dice l'economista, vale a dire con un lavoro non misurabile, con produttività non misurabile, per cui nonostante spesso i grandi sforzi i risultati non si vedono e i risultati sono lunghezza dei processi, attese, perdita di tempo e così via.